Dopo settimane di decrescita in Italia, la curva epidemiologica torna a salire e lo fa anche in Abruzzo. Una preoccupazione che cresce anche a seguito del Monito del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che ha prospettato a causa di Omicron 4 e 5 un rialzo dei casi nelle prossime settimane. Per questo si teme che il prossimo picco possa arrivare in largo anticipo, in piena estate anziché in autunno, come ci si attendeva. Per questo motivo gli esperti tornano a lanciare l'appello alle persone più a rischio, quindi over 80 immunocompromessi e fragili over 60, che non devono indugiare a ricevere subito la quarta dose del vaccino. A loro il virus, anche se in generale è meno aggressivo, può ancora provocare gravi complicanze. Sicuramente l'accesso alla quarta dose non sta dando i risultati sperati. In Abruzzo sono circa 16.000 le persone che si sono viste somministrare la quarta dose. È chiaro che molti attendono l'autunno, dove si parla dell'arrivo di questo nuovo vaccino, che avrebbe delle potenzialità maggiori rispetto a quelli che oggi abbiamo, ma io ritengo che i soggetti che invece sono a rischio, che i soggetti malati oncologici, i trepiantati, gli tutta sessantenni a rischio, io credo che la debbano fare, debbano fare la quarta dose. È chiaro che, come è successo anche in passato, quando si avvicina l'estate, e comunque la curva tende a scendere, a parte il dato di ieri, insomma, io riterrei un dato più isolato, ma comunque c'è un calo anche negli ospedali, sia nelle unità operative, diciamo Covid, e anche nelle rianimazioni, il dato è anche nazionale. Quindi, diciamo, c'è una tendenza, seppure con qualche picco giornaliero, ma c'è una tendenza alla riduzione dei contagi, però è chiaro che non bisogna abbassare la guardia. Questo virus ci ha insegnato questo. È chiaro che il fatto di aver detto che comunque a settembre arriverà il nuovo vaccino, diciamo, spinge molti relativamente incondizionati anche un po' dal fatto che comunque c'è una riduzione ad attendere settembre. Per cui, insomma, vediamo, però ecco, la raccomandazione è comunque quella di, soprattutto ai soggetti a rischio di non abbassare la guardia, di utilizzare anche, diciamo, i famosi DPI, perché risultano essere efficaci, e poi, ecco, valutare, ripeto, la somministrazione della quarta dose a quelle categorie che, diciamo, sono maggiormente a rischio.